Sarebbe bello che chiunque provasse una sufficiente nostalgia di tutto questo. No, capire esattamente che cos'è la nostalgia, no? Che cos'è? Perché se ci lo chiediamo, no? Se ti chiedo che cos'è la nostalgia, no? È difficile dire, no? Che cos'è la nostalgia, ok? Che cos'è la nostalgia? E dunque nostalgia come malattia. Yaaaaa! Adesso scrivo un diario, un diario mentale della mia vita, sono molte poche le cose che mi ricordo, saranno 5, 10, Massimo Quicci già dalla 20, non so più se ho un ricordo e racconto il ricordo che a metterle tutte insieme, le cose che mi ricordo, quelle per cui ho dei racconti che mi aiutano a ricordare, quelle per cui ho delle foto che ricordano per me quelle che so che sono successe, anche se non me le ricordo, metterle tutte insieme queste cose fanno, per me, non più di 87 giorni. Il fatto che avrei voluto fare un figlio con tutte le donne, le mie ragazze, comunque sono stato fidanzato, e che però poi non avrei voluto levare io, non avrei voluto tirare su. Non c'erano, non avrei voluto fare il bagno, questi bambini, un colettore.